Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Counter Strike Global Offensive e oggi vi volevo far vedere volevo farvi vedere questo round perchè ho fatto un ninja defuse della madonna guardate metto per 4 così quando vado B metto per 1 ok vado B guardate guardate qua lancio la smoke lui non mi vede questo si nasconde giustamente ci salto dentro e vado a defusare lol guardate cosa combino ninja defuse lol e adesso adesso passiamo alla parte iniziale guardate guardate lol no scoop ah si questo è il 1 e li morivo vabbè fuori 1 crepa adesso vabbè essercene un altro qua defuso io mi prendo la vp non mi prendo la vp però vabbè qui ce n'è uno c'era una vp ok ok e poi ah questo wow ok un altro un altro kill un altro guardate morto un altro kill il mio bello questa era abbastanza bello ok qui finisce ok ragazzi poi ce n'è un'altra che vi fa vi porto subito a partita ok ragazzi se no l'ho fatto siamo sempre in dust 2 e qui ho registrato una kill di Zeus e una kill di coltello vi porto solo quelle due kill vediamo questo ho fatto schifo lol questa era bella poi del 7 a 2 perchè l'ho fatto schifo per 5 ok madonna va bene ci sta e qui c'è la kill di Zeus va bene da caso mai tutto abbiamo ovvio ho fatto anche questa partita ero con arch quindi quindi ci siamo divertiti insomma anche se abbiamo perso però fa niente da caso mai tutto ciao a tutti ciao a tutti